Scopri il momento epico ad affari tuoi. Marito e moglie show. Pungi ed amnesia, ma guarda tu stesso cosa è successo. Prima di raccontarti cosa hanno combinato i due, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie! La puntata di martedì ad affari tuoi è stata caratterizzata da uno spettacolo unico offerto da Andrea e Simona, una coppia vibrante e divertente. Ma c'è stato un momento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Simona ha rivelato di aver tirato un pugno a Andrea prima di sposarlo, per il suo atteggiamento da piaccione. Non solo, ma Andrea ha realizzato il suo sogno di usare una telecamera della Rai durante lo show. La serata è iniziata con grande allegria e spensieratezza. Andrea, proveniente da San Carlo di Cesena, ha partecipato al gioco insieme alla sua adorabile moglie Simona. Sin dall'inizio si è respirata un'atmosfera giocosa e divertente, con la coppia che ha portato una ventata di energia positiva nello studio di affari tuoi. Affrontando le scelte dei pacchi con entusiasmo, Andrea e Simona hanno mostrato una grande complicità e un'intesa incredibile. Tuttavia, il momento più sorprendente è stato quando Simona ha raccontato di aver dato due cazzotti a Andrea, anni prima di sposarsi, per il suo comportamento da piaccione. Una confessione che ha scatenato risate e stupore tra il pubblico e gli altri concorrenti. Ma non è finita qui. Durante il gioco, Andrea ha avuto l'opportunità di realizzare il suo sogno di utilizzare una telecamera della Rai. Un momento emozionante che ha reso la sua partecipazione ancora più speciale e memorabile.